Toyota chiede la cittadinanza statunitense. Il marchio giapponese annuncia un investimento di circa 600 milioni di dollari per rinnovare gli impianti di produzione in Indiana e per creare 400 posti di lavoro. L'iniziativa rientra nel maxi investimento di 10 miliardi di dollari in 5 anni. Il presidente della casa automobilistica ricorda che l'azienda impiega già 136 mila dipendenti negli Stati Uniti. Toyota aumenta la sua produzione negli Stati Uniti e sviluppa una propria rete di concessionari. Le nostre vetture sono prodotte da lavoratori americani in un impianto americano e per clienti americani. Spero che Toyota sarà vista come una casa automobilistica statunitense. Il marchio deriva circa il 30% delle vendite globali dal mercato nordamericano. A inizio anno Trump aveva annunciato l'imposizione di pesanti dazi doganali se il costruttore fosse andato avanti col progetto di produrre in Messico. L'iniziativa della Toyota non è isolata. Il gruppo Hyundai aumenterà del 50% i suoi investimenti. Un altro colosso asiatico, la Samsung, si prepara ad annunciare la costruzione negli Stati Uniti di un impianto per la produzione di elettrodomestici. La mossa segue l'annuncio di nuovi investimenti in Texas e il Tennessee si prepara ad accogliere la nuova fabbrica della LG.